il collasso demografico che stiamo vivendo ha del clamoroso perché i numeri sono chiarissimi ma il paese fa finta di niente come se fosse un problema lontanissimo tra decenni mentre invece ce l'abbiamo qui vicino a casa mi sembra che con l'incontro di oggi siamo riusciti invece a stare nel concreto nell'immediato perché non è che fra trent'anni l'italia perderà tanti abitanti fra cinque anni nelle nostre scuole non avremo più i due milioni e mezzo di bambini nelle scuole elementari che abbiamo adesso ma perderemo mezzo milione in cinque anni c'è una cosa immediata che abbiamo attorno a noi e che nei paesi delle aree interne però si capisce di più quindi l'invito che ciascuno di noi fa agli altri è far capire all'italia tutta che quello che sta accadendo nelle aree interne non è un problema marginale dei piccoli è semplicemente l'anticipo di quello che accadrà ovunque io sono fiducioso che incontri come questi soprattutto l'idea di ragionare insieme di fare cultura e anche di puntare all'ottimismo alla felicità si è chiuso con la parola ottimismo l'incontro di oggi sia importantissimo noi dobbiamo restare ottimisti ma non perché banalmente si risolverà il problema facendo più fili no perché ci sono delle soluzioni e però dobbiamo sapere imparare a metterle in campo continuare a ignorare la sostanza del problema invece quello sì ci porterà una situazione irreversibile nel 2027 quindi fra tre anni non fra mille noi avremo in italia più persone di anni 80 80 che di anni 18 non era mai capitato prima nella storia e non è capitato in nessun luogo del mondo tranne il giappone che infatti in una situazione predisastrosa tre anni di tempo sono sufficienti per risolvere il problema no ma per cominciare a reagire sì grazie a tutti grazie a tutti